Allora, l'assicurazione ce l'ho, la benzina l'ho messa, d'altronde sopra c'è scritto Cupra, dobbiamo solo vedere se si accende. Non male ragazzi, non male. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. Oggi parliamo di Bela Cupra V2. E per chi non lo sapesse, Cupra è un brand automobilistico che è presentissimo nel padel, tanto da arrivare anche sulla racchetta di Bela Stegin. Chiaramente Cupra è anche sponsor di Bela Stegin, ma di diversi atleti, nonché di tantissimi tornei in giro. Ed anzi, ne approfitto. Cupra, se vuoi sponsorizzare anche me, ne possiamo parlare. Tornando a lei, Bela Cupra V2. Come potete vedere, lei ha esattamente la stessa forma di Bela Pro, Bela Elite in sostanza, ma ha delle caratteristiche un poco diverse. In teoria lei nasce dalla Bela Elite, ma gioca un filino diversamente. Non è esattamente un'Elite. Della Elite in sostanza è il nucleo, quindi molto simile al concetto anche della Bela LT, che a me era molto piaciuta, anche se è un filino leggerino per i miei gusti. Però ben utilizzabile, racchetta sicuramente molto sensata per chi vuole essere molto veloce in campo. Lei potrebbe essere considerata, facciamo questa piccola anticipazione, come la sorella maggiore della Bela LT. Perché definire la sorella minore della Bela Pro, secondo me, è riduttivo. È una racchetta un po' diversa. Andiamo avanti con le specifiche. Carbonio 3K Primero, carbonio rigido, non è un carbonio elastico. Evasoft al suo interno, bilanciamento a 26 cm, misurato è un 25,8, quindi ci siamo in sostanza, con un peso di 365 grammi, chiaramente escluso il laccetto. Laccetto che è simile a quello di Bela Pro, però ha un claim differente al di sopra. Infatti qui c'è scritto Inspiring the World from Barcelona, che è la sede di Cupra. Non solo, ma anche la sede di Wilson Paddle. E ragazzi, presto vi vengo a trovare a Barcellona. A tutti e due. E in tutto ciò, diciamo, dalla scheda tecnica, non è che si riesca a capire esattamente qual è la sua vera differenza rispetto all'Elite, ma la prima vera differenza, a parte l'estetica, ma ne parliamo tra poco, è la finitura che ha sulle facce. Ve la faccio vedere. Eccola qui. Bella Cupra V2 ha una finitura diversa, come era accaduto anche per quanto riguarda Bella Cupra V1, rispetto alla Bella Elite, perché questa racchetta tende a dare più spin. Ha una superficie maggiormente rugosa, in sostanza ha un maggiore rilievo, che effettivamente fa un lavoro migliore. E quindi la Bella da spin? Sì, ma non solo. Ad ogni modo, stesso manico grosso sempre di Wilson. Io ultimamente, diciamo, su Wilson tendo a togliere il grip e a montare due overgrip, anche se in realtà la mia scelta migliore sarebbe un grip più sottile. Poi vi dedicherò un video a tutte le soluzioni per ridurre il grip in caso di scelta. Tuttavia, con le sue caratteristiche, devo dire che il manico grosso non mi ha dato grossi problemi. Però sulla dinamica ne parliamo tra poco. Voglio fare un cenno per quanto riguarda l'estetica. Secondo me lei è la bella più bella di tutte. E ha un'estetica che secondo me ne vale la pena. Nonostante tutto, nonostante sia un'edizione comunque speciale, sapete che ogni anno Wilson tira fuori la bella Cupra come versione speciale della Bella, lei ha un prezzo più basso rispetto alle altre sorelle. Siamo a 320€. Ovviamente chiavi in mano e IPT esclusa. Però già con un poco di sconto, ragazzi, in realtà si finisce ben sotto i 300€. E vale la pena allora comprare questa bella Cupra V2? Lo scopriamo subito. Ma prima ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate sempre un grande like a tutti i miei video qui su YouTube, ma anche su Instagram e TikTok, dove vi invito a seguirmi sempre. Proprio in questi giorni vi ho portato dei contenuti dal Premier Paddle di Roma e presto ve ne porterò degli altri da Premier Paddle e WPT. Quindi seguitemi su tutti i social e sostenetemi. Bella Cupra V2. Ma allora quanti cavalli c'ha sta racchetta? Questa è la domanda che tanti di voi si staranno ponendo. Ebbene la cavalleria c'è. La cavalleria c'è, non è di quelle importantissime, ma è una racchetta che comunque ha una bella uscita di palla. Devo dire che le prime ore non mi era piaciuta. Nelle prime ore sembrava essere inerte, sembrava non avere tanta spinta, poi in realtà si è sciolta. È una racchetta che comunque dimostra che il carbonio sulle facce, il nucleo hanno bisogno di essere un po' rodati. E pian piano, conoscendola, pian piano che si scioglieva, onestamente ho trovato una racchetta che mi piace particolarmente per come si usa. Non per quello che pensate, perché per chi mi segue da tempo sa che io amo delle racchette tendenzialmente rigide, potenti, ok? Più aggressive. Lei sì ha dei tratti di aggressività, ma non è una racchetta di quelle strapotenti. È una racchetta molto giusta, secondo me, nelle specifiche che porta. Sicuramente il carbonio è un carbonio comunque che tende a rigido, è un carbonio che fa sentire bene la palla appena si impatta, mentre il nucleo non lo posso definire veramente soft. Secondo me è un medium soft dal punto di vista, diciamo, dell'impatto. Questo già fa capire che la racchetta un minimo di attivazione la vuole, quindi sicuramente non è sulla tipologia della Bella Pro. La Bella Pro sicuramente è più rigida, più pesante, più piena verso la testa. Lei ha un bilanciamento leggermente più basso, che poi in realtà andando a vedere le specifiche reali neanche tantissimo, in realtà è il peso qui che è inferiore rispetto a quello della Bella. Si sente un po' questa differenza, lei è indubbiamente più maneggevole, mi è piaciuta tantissimo dal fondo, voglio sottolineare tantissimo dal fondo, perché si muove come un fulmine. Trovo che sia il giusto upgrade rispetto ad una Bella LT, in termini di sensazioni, con un filo più di durezza generale, un filo più di corposità generale, quindi Bella LT mi era piaciuta comunque tanto. Forse le mancava appunto, lì mancava forse qualche cavallo, ecco, è un'archetta sicuramente dal giocatore che vuole tanta velocità di braccio, entrare veloce sulla palla, ma che non pretende tantissima potenza, bensì vuole più l'uscita di palla. Lei si pone nel mezzo tra la LT e la Bella Pro, in termini diciamo di comportamento. Puoi avere un po' quello, quindi con una certa leggerezza, puoi avere anche un po' qualcosa che ti permette di mettere braccio sulla palla. E la ritengo molto completa, dal fondo mi ha dato l'impressione di essere molto pronta, in tante circostanze, soprattutto in questo periodo in cui arrivavo, per esempio, da un bel dolore al polso, onestamente, e quindi mi ha dato una grossa mano, una racchetta che ho utilizzato molto ultimamente, perché comunque, ripeto, si muove bene, non la sento sul polso, la sento comunque agile, la sento giustamente concreta, senza eccessi, e l'ho apprezzata molto perché, a parte accompagnarmi un po' in questo periodo appunto di dolori, ma soprattutto mi ha dato l'impressione di essere una racchetta molto pronta in tutte le situazioni. Dal fondo, come dicevo, mi è piaciuta tanto, perché comunque è veloce, arriva sulla palla bene, comunque la senti bene, perché il nucleo tende al soft, ma in realtà fuori hai un carbonio comunque più duro, e quindi l'impatto non te lo perdi, quindi per me, che amo magari racchette più solide, dal punto di vista dell'impatto, mi ha comunque galvanizzato, perché non mi ha fatto perdere quella sensazione di impatto, rispetto a telai più dure, e magari anche più aggressivi. E ho trovato con lei tanta agilità dal fondo, mi è piaciuta per questo motivo, l'ho trovata sicuramente più tollerante rispetto a Bella Pro, non tollerante in assoluto, è sempre una diamante, non l'ho detto nella descrizione, ma ragazzi, Bella è sempre una diamante. Però la sua tolleranza ce l'ha, ecco, rispetto a diverse soluzioni, devo dire che si piazza molto bene in termini di punto dolce, punto dolce che è medio alto, quindi non altissimo, la Bella Pro ha un punto dolce leggermente più alto, lei tollera di più, ma è un filino più bassa come punto dolce. D'altronde la distribuzione delle masse è diversa, rispetto a quella della Bella Pro, è qualche cambiamento che ovviamente arriva. Tuttavia ritengo che, questa poi è una nota che volevo fare alla fine, ve la aggiungo adesso, ritengo che, data la sua leggerezza, dato il fatto che comunque è più gentile, rispetto a Bella Pro, un po' più generosa anche in uscita di palla, facile rispetto alla Bella Pro, e anche più maneggevole come detto, qui si possa intervenire tranquillamente, con un bel po' di piombo in tessa, per renderla tanto cattiva, o un po' più cattiva. Cosa che si poteva fare già con la Bella LT, ma qua partiamo praticamente con 10 grammi in più, e partendo con 10 grammi in più, il motore è un po' più pronto, a darti qualche cavallo in più. Ecco, diciamo sulla Bella LT, appesantirla secondo me non ha tanto senso, chi compra Bella LT, vuole una racchetta molto leggera, chi compra magari Bella Cupra, vuole qualcosa che non sia Bella Pro, ma che sia più giocabile di Bella Pro, magari, o più soft di Bella Pro anche, perché Bella Pro comunque richiede un certo controllo, e lei invece di controllo ne ha veramente tanto, perché questa sua durezza un po' di faccia, questo suo nucleo soft, questo fatto che comunque si porti veramente bene, si possono correggere i movimenti durante il gioco, e tra controllo e facilità di gioco, chiaramente per un utente almeno intermedio, ecco, lei magari apre un po' verso l'intermedio rispetto a Bella Pro, può fare un bel lavoro. E mi è tanto piaciuta, ripeto, per l'agilità che mi ha dato, per la possibilità, diciamo, di difendermi dal fondo, il modo in cui fa uscire la palla con un minimo di pegata, quindi con un poco 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 di forza in più rispetto al solito, facendo finta di essere dura in sostanza, perché lei fa finta di essere una dura, e questa sua volontà di fingersi dura, a me in realtà è piaciuta. Un tentativo, per esempio, che ho fatto è stato quello di togliere il grip, in realtà l'ho tolto, poi l'ho rimontato, devo dire che già lavorando maggiormente con il polso, prende qualche cavallo in più. Secondo me può essere anche una soluzione, per chi ha la Bella Pro, ma vuole nel borsone qualcosa da utilizzare, magari indoor, magari la sera, magari quando non è prontissimo per utilizzare Bella Pro, ma c'è da dire che lei comunque è una racchetta con una sua caratteristica di facilità maggiore, di accondiscendenza maggiore, e non è un ripiego, è una racchetta diversa da Bella Pro. Portiamolo a rete, perché lei ovviamente è una bella, sarà una bella Cupra, magari è una station, non è una muscle car, ma è sempre una diamante, e quindi dobbiamo vedere al volo che fa. Prima cosa voglio dire che le volée con lei mi sono piaciute tanto, ha un bel tocco, questo fatto che combina un carbonio duro con un nucleo più accondiscendente permette un attimo più di tempo per lavorare la palla, soprattutto col buono spin che concede. La volée è buona, non è potentissima, ma è una volée che comunque gira, si piazza bene, e la palla si sente abbastanza bene. Mi ha permesso il tocco, mi ha permesso comunque un po' la pegata sul colpo, non posso lamentarmi come va sulle volée, certo più cattiveria, più peso in testa, in stile Bella Pro, sicuramente fanno più danni, però lei mi ha dato una maggiore tranquillità nella gestione dei colpi al volo in generale, rispetto alla Bella Pro, che alle volte diciamo un po' di tempo te lo toglie, perché devi prendere maggiormente le misure sui colpi che stai facendo. Lei qualche correzione te la permette, quindi minore potenza assoluta, ma maggiore facilità sui colpi al volo in generale, ma soprattutto anche sulle volée. Vibora e Bandeca, non male, mi sono piaciute, forse qui ho sentito un po' la mancanza di un poco di spinta, tuttavia lei va più sul lato controllo spin, con buona uscita di palla, attenzione, cioè la palla esce, ed esce anche bene, sicuramente Bella Pro è un altro livello, però dal punto di vista della gestione generale, del colpo che deve far male, che deve girare, accoacciarsi verso il vetro laterale, non posso dire niente, perché lo spin è veramente molto buono, l'agilità è buona, la continuità che mi ha consentito sui colpi al volo, sicuramente è interessante, perché tanto tempo al volo non stanca, anche qui diciamo il manico un po' grosso, mi ha dato qualche noia alla lunga, perché avrei preferito poter utilizzare maggiormente il polso, l'ho preferita ampiamente, quando ho tolto il grip originale, ho montato due overgrip, e allora lì ho potuto sfruttare un po' più di peso in testa, pochissimo, però soprattutto tanto più polso, e lì sicuramente mi ha aumentata l'efficacia dei colpi al volo, così come Vibora e Bandeca, dove liberando il polso sicuramente ho sentito una maggiore potenza, quindi si è avvicinata un po' al concetto di Bella Pro, ecco, però non posso lamentarmi di come vanno sui colpi al volo, io per dovere di cronaca vi devo dire quello che trovo, su di lei ho trovato una bella uscita di palla, una buona potenza, che comunque mi ha sempre consentito di giocare colpi efficaci, è una racchetta che ho utilizzato tanto, è una racchetta che sui colpi al volo, come Vibora e Bandeca, mi ha dato tanta fiducia, questo è il termine secondo me che più deve accompagnare, bella Cupra V2, cioè fiducia sui colpi che vai a giocare, perché tra controllo, uscita di palla, anche quando la pesti un po', non ti dà mai l'impressione di essere difficile. Portiamola sullo smash, forse qui è il punto dove chiaramente, mentre smash un po' con lei, ti viene in mente, ah 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 dovevo prendere la bella pro, ed eccola qua la bella pro eh, parlo di bella pro ma in realtà era lì dietro pronta ad intervenire, perché sullo smash chiaramente bella pro ha un'altra spinta, ha una spinta sicuramente superiore, e ha una spinta più piena, però non posso lamentarmi in assoluto della sua prestazione, questo perché? Perché sullo smash lei garantisce tanto spin, sicuramente la palla gira bene, mi ha dato sempre l'opportunità di pestare la palla con il mio braccio, approfittando dello spin buono che lei poi va a garantire, quindi concetti diversi, qui te la spara forte, forse più dritta però, lei invece ti consente di mettere più spin, anche se te la tiene un attimo più dentro, è chiaro, c'è un nucleo soft, oppure meglio tendente al soft, c'è un nucleo comunque più duro qui, affonda meno, quindi qui tanta tecnica per fare il smashing kick, ma sfruttando tanta potenza, qui invece ci vuole un po' più di braccio, facendo lavorare la faccia più dura con il nucleo, però che te la tiene un attimo più dentro, è questa superficie che sicuramente trattiene un po' più la palla. Ma ce la fa Fasti Portress questa bella cupra? Certo che ce la fa, ce lo sto facendo vedere nel video, lo riesce a fare, ci vuole un poco di spinta, ma lo riesce a fare, anche con buona continuità devo dire, nonostante un periodo di dolori al polso, quindi non potevo spingere nemmeno al tutta, l'avevo provata già prima, quindi vi dico che dal punto di vista della potenza, lei anche da lontano, il Portress lo consente a chi ha un minimo di tecnica, è un braccio sicuramente veloce, bisogna saper sfruttare lo spin, qui non si fa lo smash tanto di potenza, lo smash qui si fa, soprattutto con lo spin. Però c'è il vantaggio di questo primero Carbon 3K, che la pegada te la fa mettere, con altri telai, col nucleo tendente al Soft, e con un Carbonio più elastico, fai un po' più fatica, perché gli danno più uscita di palla facile, ma lei ti permette anche di pestare un po', motivo per cui in generale dal fondo e da rete, posso dire che lei comunque è una racchetta abbastanza totale, è una diamante abbastanza, sì anche giocabile posso dire, ma soprattutto completa, di un completo che è accompagnato da un braccio, che sa quel che fa, la prestazione ce l'ha assicurata, sempre, anche quando il braccio o magari le gambe sono un poco più stanche, questa è la vera differenza che ha rispetto a Bella Pro, che chiaramente ha un motore più grande. Però la domanda è sempre la stessa, la sai portare a Bella Pro o di schianti alla prima curva? Perché anche se sei un bravo pilota, non è detto che devi avere una macchina potente, alle volte le macchine più agili ti consentono maggiore prestazione, e questa è una domanda che sul paddle spesso bisogna farsi. Allora ragazzi, perché comprarla e perché no? La comprarei perché è una diamante completa, è una diamante quasi giocabile, è una diamante che apre, secondo me, dall'intermedio all'avanzato, per chi cerca agilità, un tocco che non sia realmente soft, ma sia un medio, mettiamola così, ma dato da quella combinazione di nucleo un po' più soft, e faccia un po' più dura. A me questo tipo di abbinamento piace. La comprerei per l'estetica, perché è vero che fa strano avere il logo Cupra, dici cosa fai, compra una Wilson e su, c'è il logo di un'automobile, beh, bisogna sapere che Cupra è comunque uno dei brand maggiormente legati al mondo del paddle, e che sostiene il paddle, per cui questo abbinamento non è sicuramente una struttura culturale. E per di più lo dico un'altra volta, Cupra, io sono aperto a proposte, se vuoi sponsorizzarmi, sono qui, e posso essere tuo. Abbracciamoci. E voglio aggiungere anche che la comprerei, anche rispetto alla Bella Pro, perché provata per tanto tempo, accompagnandomi per tanto tempo, anche magari con qualche doloretto addosso, eccetera, mi ha fatto capire che lei è una racchetta che può darti tanto nel lungo periodo. Azzardo a dire che la preferisco a Bella Pro, perché ha dei tratti di maggiore giocabilità, pur essendo una racchetta tecnica. Non la comprerei ovviamente se cercassi una Bella Pro, una racchetta da potenza assoluta, per quello c'è la Bella Pro, e non si discute, è più potente. Non la comprerei se cercassi una racchetta soft. Lei non è una racchetta soft, per quanto ci sia scritto soft vicino come nucleo, ma le sue facce sono lì, un primero carbon bello duro, quindi sostanziosa. Non la comprerei se cercassi un manico piccolo, se avessi una mano piccola in realtà, perché il manico Wilson è sempre generoso, molto tennistico, ci vanno bene gli amici tennisti come me, meno bene quelli che hanno magari una mano un po' più piccola, che sono costretti comunque a fare un intervento su questo grip. Io alla lunga comunque mi ci abituo, ma preferisco sempre togliere il grip originale e montare o qualcosa di più sottile, perché il grip originale ha uno spessore di 2 mm ed è abbastanza, ed è solido, ecco. È piacevole tennisticamente, ma padelisticamente preferirei una soluzione meno spessa, non come base del manico, ma come grip scelto. C'era quel bel sublime una volta, Wilson era perfetto da 1.7 mm, che dava quella misura giusta per usare un po' più il polso. Tocca a mettere mano a portafogli, 10 euro, e si può risolvere. O altrimenti, 2 overprip, o anche 3, e poi via di munieca a spingere la palla. Bene ragazzi, io con lei, bella Cupra V2 ho finito, mi è piaciuta tanto, l'ho detto tante volte e mi è piaciuta tanto, ma è assolutamente la verità. La sua giocabilità per essere una diamante mi ha colpito e mi ha affascinato. Detto ciò ragazzi, ovviamente iscrivetevi sempre al mio canale, perché lo vedo che il 65% di voi ancora non è iscritto al mio canale. Cosa aspettate? La vostra iscrizione a questo canale, che è sempre gratuita, ve lo ricordo ragazzi, e il vostro like a questo video, quindi lasciatelo sempre a questo e a tanti altri miei contenuti, possono solo aiutarmi a far crescere questa community, questo mio lavoro e a farmi fare sempre di più e sempre meglio. E mi raccomando, sempre seguitemi su Instagram e TikTok, dove vi anticipo sempre tutti i contenuti e ve ne porto degli altri specifici per quei due social. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ma sai che forse non ci ho pagato l'assicurazione? Mannaggia a me.